Siamo qui insieme a Massimo, Dei Bell, beh, un dottore ameritata, strameritata direi, sì, sì, giustamente. Quattro gol in primo tempo, sei gol in primo tempo. Siamo arrivati abbastanza bene, solo che ogni tanto si intestardiscono a voler tirare a tutti i costi, ma però se vogliono sanno anche giocare. Tante occasioni da gol sprecate, ma tanti gol fatti. Sì, peccato che ne abbiamo presi due per due errori nostri, perché, certo, gli avversari esistono, ovviamente, però ci siamo mossi male, specialmente nel secondo gol. Va bene così. Secondo tempo, ho visto una squadra messa meglio in campo, avete sofferto di meno in difesa, come appunto dicevi te, magari nel primo tempo con due golle, però ce l'ha a migliorare, ma avete giocato molto bene. Adesso ci aspetta un'altra partita lunedì da vincere a tutti i costi per andare, per tentare i play-off. Esatto. Siamo lì, siamo lì, ce la giochiamo. Grazie a te. Grazie. Ciao ragazzi.